Sale la febbre da Big Match nel campionato di promozione Girone A. Raffadari e Canichetti entrambe al primo posto in classifica, quota 28 punti, dopo l'assaggino di Coppa si daranno nuovamente battaglia sul campo. Domani allo stadio comunale di Raffadari non sarà una sfida normale. Gialloverdi e Biancorossi si giocano una grossa fetta di stagione con un successo da una parte o dall'altra che potrebbe indirizzare una delle due verso la prima vera fuga del torneo. Partita importante ma non decisiva. Si legge nella pagina Facebook del Canichetti Calcio, andremo a far visita ad una formazione in piena forma che ha gli stessi nostri punti in classifica e con un cammino molto simile a quello dei nostri ragazzi. Servirà una prestazione di altissimo livello di ogni singola treta per uscire a conquistare un risultato positivo e affermare la propria forza. Ragazzi e mister sono a conoscenza delle proprie capacità e sono consapevoli che accanto a loro ci sarà un numero considerevole di tifosi a spingerli verso l'obiettivo previssato. Infatti fervono da giorni i preparativi per la trasferta di domani dove vengono chiamati a raccolta tutti i tifosi per accompagnare i Biancorossi in questa difficile trasferta. Canichetti risponderà presente. A preparare la partita sono i due allenatori, da una parte Alfredo Mattina, dall'altra Giovanni Falsone. Inutile negare che si tratta della partita più importante di questa prima parte di stagione. Speriamo siano 90 minuti di Sano Sport. Se vinciamo noi finisce il campionato, replica Giovanni Falsone. Il motivo? Abbiamo una grossa società alle spalle che vuole fare calcio anche in categorie superiori. Se vince Raffadari vinceremo il campionato nel girone di ritorno. Conclude Giovanni Falsone.